Buongiorno Orchidea di Murosolo, Orchidea di Medicina per l'Anima. Vi ricordo sempre i novissimi libri Orchidea e storie e personaggi di quarta edizione, 572 pagine e questo Orchidea di Medicina per l'Anima che è una sintesi. Li trovate qui all'orchideria o su Amazon.it. Allora, oggi voglio parlarvi di quanto durano i fiori delle orchidee. Le orchidee sono tantissime, sono le piante più diffuse sulla terra. Ne esistono 28.000 specie, più di 28.000 specie, continuamente ne vengono trovate di nuove. E sono diffuse dappertutto. Ci sono orchidee che durano tantissimo, orchidee che durano pochissimo. Sapete tutti che le orchidee, le palenopsie durano molto, durano almeno tre mesi, le volte che è molto di più, ma ci sono anche orchidee che durano pochissimo. Per esempio la vanilla, ecco domani facciamo un video sulla vanilla. La vanilla, i fiori della vanilla praga, la vanilla planipolia che si usa per farla vaniglia. Sbocciano mattino, passiscono prima di sera, praticamente durano 12 ore, scarse. Per impollinarle, bisogna impollinarle tutta la mattina perché è il momento che sono più feconde e bisogna impollinarle molto velocemente, per cui si è abituati, cioè apriamo un video sulla vaniglia. Ci sono tante orchidee che durano poco, per esempio le sobrali, le bellissime orchidee dell'America tropicale, che hanno dei bellissimi fiori che sono considerati delle impestanti dell'America tropicale. I suoi fiori bellissimi, grandi, sembrano delle belle catleie, grandi per sap poco come questa catleia, però se ha la calore, sbocciano mattino e passiscono la sera. Al contrario, ci sono orchidee come il dendrobio compressore della Nuova Guinea, i cui fiori durano così tanto che vengono spolverati perché durano 12 mesi, cioè durano 10 mesi, i singoli fiori durano 10 mesi per la polvere. Questo è un vecchio libricino del 1905, di Angelo Pucci, l'autore è Angelo Pucci, editore, un ricolpi, editore libro del Rea Casa, costava lire due, 1905, è stato stampato appunto nel 1905. Allora, vi leggo qui un passo di questo libro qui, di più di cento anni fa. Aspettate che devo dov'è? Eccolo qua. La maggior parte dei fiori hanno consistenza cerosa, e perciò i fiori stessi hanno una lunga... Allora, la maggior parte dei fiori ha una consistenza cerosa, e perciò i fiori stessi hanno una lunga durata, sia sulle piante sia già colti. A tal proposito, è citato un cimbidium lovianum, che aprì i suoi fiori il 26 dicembre 1883, e la pianta con la stessa infelicenza fu presentata in buonissime condizioni ad un'esposizione a Londra il 18 giugno 1884, cioè dal 26 dicembre 1883 al 18 giugno 1884, cioè praticamente sei mesi. Però, lui dice perché sono molto cerosi. Questo no, perché non è così. Perché ci sono dei fiori molto molto cerosi, come per esempio l'esternopea. L'esternopea ha dei fiori molto cerosi, sono dei fiori cerosi, pesanti, consistenti, tra l'altro profumatissimi, che durano, secondo le specie, tra due o quattro giorni. Quelle che ha specie di rottimena durano due giorni, quelle che durano di più, il singolo fiore dura quattro giorni. Mentre ci sono dei fiori con una consistenza piccolissima, una pochissima consistenza, come le falenopsie, che durano tantissimo. Per cui questa cosa che dice un ricorre, che durano così tanto perché sono molto cerosi, non è neanche vero perché appunto ci sono certi molto cerosi che durano poco e altri invece non cerosi che durano tanto. Comunque la differenza delle orchidee è vastissima, anche nella durata dei fiori, nelle forme, nei colori, nei profumi, nelle dimensioni, in centomila modi sono differenti, anche nella durata. Comunque sapete tutti che le falenopsie durano tantissimo, ci sono anche tante orchidee che durano poco. Per esempio i piraldi, che adesso spero presto a avere qualcuno fiorito, che così facciamo un video, hanno una fioritura abbastanza breve, dura meno di un mese la fioritura che ho compreso, però è una cosa spettacolare, perché quando è fiorito è una cascata di fiori incredibile. Va bene, dai, a domani!